Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della nostra Master League con la Roma, signori, che punta verso la cima della classifica, signori, siamo terzi a 14 punti, non male, pari punti con Barcellona e Lazio, comunque non sono laziale, signori, non sono romano, ma sono interista, signori, quindi partiranno dalle critiche, ma sono interista, ho preso la Roma per simpatia, ho preso la Roma per simpatia. Detto questo, signori, prima di partire dal video vi ringrazio per i like, per i commenti progetti e per il supporto, vi ricordo di iscrivervi al canale che ho bisogno del vostro supporto per raggiungere i 2000 iscritti e poi partire verso nuovi orizzonti, signori. Detto questo, allora, partiamo dai commenti. Ho riuscito a tanti commenti e tanti suggerimenti, di questo vi apprezzo sempre, signori, e so che aver chiamato Yarny Johnny non a tutti ha fatto piacere, quindi mi concentrerò per cercarlo di chiamare Yarny o Jarny o Giardino, come cazzo, ma non Johnny, va bene, non lo chiameremo Johnny. Al solito, signori, mi avete dato dei suggerimenti, mi avete suggerito dei giocatori marocchini che io avevo già intravisto, ovvero un certo Argy, che non so di preciso chi sia, non me lo ricordo sinceramente, però è un ottimo, diciamo che delle statistiche non è per niente male, e potremmo prenderlo al posto per farlo come trequartista, secondo me ci può stare, magari prendere lui e vendere Stojkavic, non lo so, perché Totti lo vorrei tenere, signori, e davanti alla difesa dovremmo mettere Totti e Davids in un futuro prossimo, e questo Argy lo potremmo mettere come trequartista, quindi Stojkavic non avrebbe più tanto spazio da valutare un attimino. Mi avete suggerito anche dei terzini che in questo momento non mi ricordo, forse Sabir, Sabair mi avete suggerito come terzino da mettere sulla fascia, ovviamente c'è sempre il solito Agaowa che prima o poi prenderemo, signori, Agaowa, che anche lui è un bel elemento. Per quanto riguarda il Camero non avete suggerito un certo semi-sema, ma non ci sta, signori, o so io cecato, o questo semi-sema da mettere come difensore non ci sta. Quindi comunque noi in questo precisamente non abbiamo soldi, stiamo parlando inutilmente di tante cose carine, e detto questo non perdiamo tempo, signori, scendiamo subito in campo, vediamo la prossima partita, noi vediamo da una grande vittoria contro il Real Madrid che mi ha scioccato, però, 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 proviamo, proviamo, proviamo a riportare a casa altri punti importanti. Allora, fatemi vedere, se io faccio gestione e formazione, c'è qualcosa a carica della... C'è qualcosa che mi possa evitare? No, niente, non riesco a tenere a memorizzare la formazione che ogni volta mi tocca andare a fare. Va bene, in tutto questo abbiamo scoperto che giochiamo con la Lazio, bene, ottimo. Mettiamo i nostri tra i soliti giocatori lì, mi avete suggerito di alzare completamente i difensori e i centrocampisi, signori. Io ci provo, li metto un pochino più su, li metto un pochino più su, anche se non ho Vorlangen, li metto tutti un pochino più su, un pelino, un pelino, non troppo, però, perché io ho paura a giocare con la difesa troppo alta, però mi avete suggerito di fare così e io vi ascolto i vostri suggerimenti. A questo punto lui lo mettiamo un pochino più su e anche gli esterni, in questo caso, larghi e un po' più giù, e un po' più giù, così. Largo e un po' più giù, via, decisamente più giù. Riusciremo a fare qualcosa di interessante? Non lo so, signori. Rischiamo l'imbarcata contro la Lazio? Spero di no, perché il derby me lo vorrei portare a casa. Allora, io non ricordo assolutamente niente di come siamo combinati, di sicuro, arrivo a punta centrale. Miranda, se non sbaglio, deve giocare da trequartista, se non ricordo male. E Spimas va bene sulla sinistra, va bene. A posto di castello giocherà Babangita. Stoikavic lo mettiamo a posto? Aspettate, a me dovrebbe mancare Vorlanden, infatti. Quindi facciamo coppia di mediani, Totti e Stoikavic. Proviamo Stoikavic lì, con Miranda trequartista, a ricentrare Babangita sulla sinistra e Spimas sulla destra. Spimas però deve uscire per Jorni. Ok, che lo mettiamo sempre da quel lato. Poi mettiamo... Mettiamo... Aspettate un attimo. Così... Valeri va al centro, al posto di Cafu. Ok, al posto di Dudic, oggi ci proviamo Cecil, che mi avete detto è buono come difensore. Come terzino. Quindi abbiamo Cecil sulla destra, Cafu sulla sinistra con Babangita, Valeri e Stromer centrali. Proviamo così, signori. Vediamo cosa succede. Scendiamo in campo contro la Lazio. Partita importante, signori. Il derby e il derby. Il derby e il derby, signori. Quindi non facciamoci prendere dall'emozione. Concentrati. E vediamo di portarci a casa la vittoria anche oggi. Ecco, una vittoria oggi sarebbe importante, signori, perché ci sbloccherebbe dei punticini per poter iniziare a fare un attimino mercato. Partiamo malissimo, signori. Buco difensivo terribile. Totti, tutti, 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 tutti. Grandissime recupero di palle di Totti. Che però si fa... Mannaggia. Miranda, 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 Miranda. Cerca qualcuno che trova Stromer. Stromer, Stromer, Stromer per Cafu. Cafu la gira per Totti. No, la stava passata babangita. Mannaggia a te. Vai Cafu, vai Cafu. Pendolino Cafu. Che cerca subito del Bamba. Che va per via centrale per Miranda. Miranda, 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 Miranda. Miranda. Giorni, 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 Giorni. È partito Giorni. È partito Giorni, signori. È partito Giorni. Non lo fermi più. Giorni. Cerca altre persone. Arri, mannaggia. Attenzione. Totti si fa anticipare. Attenzione, attenzione. Concesao. Cafu non riesce a tenere la velocità di Concesao. Grandissimo l'intervento di Stromer. Attenzione, attenzione, attenzione. Attenzione. Brutta situazione. Però riusciamo a uscirne con Cafu. Con Cafu, 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 Cafu. Mi avete anche detto giustamente... No, babangita mio. Mi avete giustamente scritto anche nei commenti che Stojkavic è un po' così un pesce fuor d'acqua perché io fondamentalmente gioco sulle fasce e ci avete perfettamente ragione, signori. Per die centrali non ci passo mai. Quindi Stojkavic, un pallone giusto, bello da poter giocare da poter rifare qualche cosa interessante non lo vede neanche col binocolo. Miranda, 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 Miranda tutti, 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 tutti lo sapevo io. Lo sapevo che lo perdeva questo pallone. Lo sapevo che è grandissimo però il recupero di tutti per Miranda che va per die centrali. Miranda, 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 Miranda. Miranda, 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 vede Harry. Vede Harry che l'apre per Jordi. Jordi, 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 Jordi. Serie di batti e ribatti. Babangita, mamma mia, stiamo facendo un fallo bruttissimo al centrocampo. Verona, attenzione a Verona. Attenzione a Verona, attenzione a Verona. Babangita dall'alto del suo metro e venti riesce a prendere il suo pallone che poi però Harry non riesce a controllare bene. Bravissimo Stojkavic. No, Stojkavic non ha fatto nulla. Ha perso il pallone. Bravo Stojkavic. Attenzione, attenzione. Momento, 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 momentus, momentus. Salas porta in vantaggio la Lazio. Va bene. Lazio 1, Roma 0. Lazio 1, Roma 0. Babangita, 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 Babangita. Babangita è partito. È partito Babangita. Babangita non ci sta. Babangita non ci sta. Si fa fuori tutta la... No! Ha fatto fuori mezza squadra dalla... Mezza Lazio. Mezza Lazio ha fatto fuori. Stojkavic, Stojkavic. Attenzione, Stojkavic. Annaggia, Stojkavic mio. Ai ai. Signore, ci provo a dargli un attimo di fiducia. Però, cazzarola, Stojkavic. Occhio a questo passaggio. Bello. No, dai, cazzarola. Perché? Perché lui mi ha dato una spallata ed è rimasto in piedi e io sono cascato come... No, no! 2 a 0 della Lazio. Una partita pesantissima da recuperare. Babangita, 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 Babangita. Fa fuori mezza squadra. Come prima. Babangita, Babangita. Riesce... No! Faccio la cosa più complicata. Non riesco a fare la cosa più semplice. Mannaggia a me. Porca miseria. Attenzione, ancora. Bravissimo. Arri, 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 Arri. Arri che dopo la partita... Cecil, Cecil, Cecil. Miranda! Miranda! Mamma mia. Che razza di tiro ha fatto, Miranda. Invece di tirare una bordata, gli ha tirato un... Gliel'ha passata, praticamente. Forse non si è accorto che stiamo a perdere 2 a 0. Attenzione a Verón. Attenzione a Verón. Cazzarola. Ma che si trovano tutti gli angolini? Li trovano tutti. Attenzione. Se si... Se si... Attenzione. Che brutta palla. Journey. Journey. Ah, lo sapevo io che era. Facciamo un brutto fallo. Lo sapevo. Verón. Attenzione. Punizione. Pallone al centro. Pallone messo fuori. Arri. No, Arri mio. Che cazzarola fai a Arri? Va bene. Stoikavic. Fa una cosa buona a Stoikavic. Attenzione. 1-2. Bello di Stoikavic. Che poi cerca Arri. Che poi cerca Journey. Che poi torna indietro per Miranda. Attenzione. Grandissima la giocata qui di Miranda. Che cerca il Bamba. No. Avevamo fatto un'azione avvolgente. Bella, però. Mannaggia. Valeri. Cazzarola. No, vabbè. Dai. Non gli puoi dare tutto sto spazio, però. Attenzione. Totti. 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 Riparte lui. Totti. 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 Cerca il Bamba. È partito il Bamba. Che cerca Arri. Che cerca Arri. Che cerca Arri. Che non riesce però a muoversi. Attenzione. Arri. Stoikavic. Stoikavic. Giornì. Giornì. Ancora Stoikavic. Ancora Totti. Azione avvolgente della Roma. Attenzione. Miranda. Miranda. No. Non ci credo. Che azione abbiamo fatto. Mannaggia la miseria. Trovavamo il gol del 2-1 a fine primo tempo. Era importantissimo. E invece non lo troveremo mai nella vita. Con se sa. Con se sa. Con se sa. Con se sa. Valeri di testa. Grandissimo. Bavanjito giustamente. Alto un metro. E una tic tac. Non riesce a prendere testa. A questo ci siamo fatti fregare. No. No. Va bene. Ultima azione per noi signori. Ultima azione per noi. Ultima azione per noi. Attenzione. Il pallone per il Bamba. Il Bamba. Il Bamba. Cercato Totti. No. Ma Totti mio. Un affambagno. Attenzione. Totti. Totti cerca il Bamba. Niente da fare. Finisce il primo tempo così signori. Lazio 2. Roma 0. Allora. Facciamo una cosa. Che tutti voi già vi aspettate. Cambiamo Bapanjita con Jordi. E partiamo così. E partiamo così. Ci vuole un secondo tempo alla Real Madrid. Ci vuole un secondo tempo come quello che ci hanno fatti con Real Madrid praticamente. No. No. Non era proprio così il secondo tempo con Real Madrid. Però partiamo malissimo. Partiamo malissimo. Simone Inzaghi. Mitico Simone Inzaghi. Cecil. Cecil. Bravissimo l'intervento. Babagita può partire. Il Bamba. Il Bamba. Il Bamba. Il Bamba è partito. Il Bamba è partito. No. Che cazzarola. Totti. 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 Totti Babagita. Ancora. Babagita contro Pank. Allora se Pank è più veloce di Babagita dico parliamone. Babagita. Babagita. Dove così. E l'accorciamo signori. L'accorciamo con il Bamba. E l'accorciamo con il Bamba. Dai dai. Dai dai dai. Dai signori. Dai 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 dai. Dai 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 dai. Dai dai dai. Porca miseria. Dai 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 dai. Dai 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 dai. Grandissimo Jordi. No. Jordi mio. Era tua sta palla. Jordi. Grandissimo Jordi. Che la tiene. La tiene lì. Grandissimo il recupero. Porca miseria. Però dai. Cafu mio. Cafu mio. Che cazzo la fai? Cafu. Effettivamente Cafu. Scusate signori. Cafu sulla sinistra. Io non me lo ricordo. Forse sarò ignorante io. Però Cafu. Che io ricordo. Giocava sulla destra. Poi forse sono ignorante io. Punizione. Concei Sao. La prende di testa. Attenzione. Totti. 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 Valeri. Valeri. Valeri per Cafu. Cafu che vede subito il Bamba. Il Bamba che se ne va. Il Bamba che se ne va contro Pancaro. Il Bamba che se ne va contro Pancaro. Il Bamba che se ne va contro Pancaro. Che vede Harry. 2 a 2 della Roma sulla Lazio. 2 a 2 della Roma sulla Lazio. Chi è Harry? Grandissimo. Babangida. Che la passa. Harry la prende. Bam. Bella così. 2 a 2. Partita recuperata in 10 minuti. L'orgoglio romano è uscito fuori. L'orgoglio romano è uscito fuori, signori. Buona così. Buona così. Abbiamo funzionato. Abbiamo funzionato. L'importante è non fare cretinate ora. Attenzione. Attenzione. Tipo questa. Mannaggia. Riusciamo a ripartire lì? Era fatta. Riusciamo a ripartire lì? No. 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 Qualcuno che chiuda qualcuno. No. 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 Ivanov va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Peccato. Almeida. Grande Almeida. Beron. Calcio d'angolo. Pallone buttato al centro. Vediamo. Harry non riesce a intervenire. Però Totti recupera il pallone. Totti recupera il pallone. Trova Giorny. Giorny che parte. Attenzione al contropiede della Roma. Giorny. 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 Fa un po' di testa a sinistra. Giorny. 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 Sterza tutto. No. Mannaggia. Era troppo chiuso. Era troppo chiuso. Giorny. Giorny per Cecil. 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 Ma porca miseria infame. Dico io. Ma riusciamo a fare due passaggi giusti. Stoicavic. Stoicavic. Un passaggio un po' così per Babangita. Che però riesce a spenerla. Il Bamba. Il Bamba. Il Bamba. Il Bamba. Il Bamba. Il Bamba. Mannaggia. Era troppo largo per tirare in porta. Mannaggia a me. Mannaggia a me. Valeri. Con calma. Con calma. Per Cafu. 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 Cercato ancora Babangita. Che questa volta non va. Babangita. 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 Attenzione. Cafu. 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 Ci prova lui. Pendolino Cafu. Dal nulla. Primo gol. Con la moglie della Roma. E derby ribaltato. Gran gol di Cafu. In caduta. Marchigiani battuto. Grande così. Derby ribaltato signori. Roma 3. Lazio 2. Attenzione. Attenzione. L'orgoglio romano. Totti. 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 Va in chiusura. Totti. Va in chiusura sulla fascia. Totti. 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 Attenzione. Pallone buttato fuori. Attenzione ancora. Ivanov. Grandissimo. Con calma. Tiene lì Ivanov. Grandissimo. Tiene lì Ivanov. Però da l'ora. Attenzione. Valery. Valery cerca Cafu. Che cerca il Bamba. Che no. Mannaggia. Lo stavo passando. Lo stavo passando. Mannaggia. Attenzione. Bucco difensivo. Bucco difensivo. Bucco difensivo. Ma sbaglia tutto. Non so se. No. Penso Salas. Fuori. Aierlovic. Dentro Sensini. Attenzione. Se si. Se si. Cerca Giornì. Giornì. Non parte. Vede Totti. Che vede Miranda. Che vede Stokavic. Che gira. Attenzione. Stokavic per Babangita. Che vede. No. Mannaggia. Troppo. 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 Troppo gioco di squadra. Attenzione. Arri recupera il pallone. Che cerca Babangita. Che riparte Babangita. Attenzione a Babangita. Attenzione a Babangita. Che si fa fregare da Pancaro. Attenzione. Pancaro che riesce a battere Babangita. E da scrivere sul calendario. Attenzione. Babangita. Cerca Arri. 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 L'ho tirata troppo dritta per dritta. Signori. Noi dobbiamo fare magari il secondo gol. Voglio due gol di vantaggio. Miranda. Miranda. Per Arri. 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 Per Babangita. 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 Ancora contro Pancaro. Babangita. Babangita. 4 a 2 della Roma sulla Lazio. Mamma mia che partita signori. Mamma mia che partita. Questa volta Babangita non sarei sentita di passare. Ha tirato direttamente. Forse c'era Stojkavic più libero al centro dell'aria. Non me la sono sentita di passarla signori. Che brutto fallo di Giorni. Non mi dare il rosso perché ti sparo. Ammonito Giorni. Oh Giorni. Parte la punizione per la Roma. Che poi tira subito. Ma Ivanov la para lì. Ivanov la para lì. Dai così. Valeri. Attenzione. Valeri. Cerca Cafu. Che cerca Babangita. Che cerca... No. Babangita mio. Mamma mia che errore. Grandissimo l'intervento di Valeri. Un che Valeri da centrale merita tanto. Babangita per Miranda. Nonnaggia. Attenzione. Attenzione. Valeri. Valeri. Grandissimo. Valeri sovrasta velocemente. Salas. E poi cerca Cafu. Scusatemi per l'interruzione. Babangita. Babangita. Babangita si fe... No. Signori. Ci siamo persi sul finale. Ci siamo completamente persi sul finale. Attenzione. Cecil per Totti. Per Stoikavic. Pallone. In cassaforte. Così. Però Babangita. Perché parlo? Valeri. No. No. Ivanov. Buttala fuori. Bravi. Va bene. Va bene. Va bene. Un intervento difensivo. Che è proprio brutto. Ivanov è tua. Vai. Così. Signori. Un derby riboltato. Sparavacchiala fuori. Stavala. Signori. La Roma. Vince il derby. Riboltando il risultato. Sotto 2-0. Ne fa 4 nel secondo tempo. Grande così. Doppietta di Babangita. Attenzione. Andiamo a vedere. Allora. Assist di Totti e gol di Babangita. Assist di Babangita e gol di Henry. Assist di Stoikavic e gol di Cafu. Assist di Henry e gol di Babangita. Signori. Mamma mia. Che gran giocate di squadra. Signori. Assist di Babangita. Henry, Cafu e Babangita. Assist di Totti. Babangita. Stoikavic e Henry. Stoikavic ha dato segni di vita. Signori. Stoikavic ha dato segni di vita. Questa è una cosa buona. E forse il quarto gol l'avrebbe pure potuto segnare lui. Se con Babangita l'avessi passata. Però l'ho voluto provare. Signori. 31 punti. 31 punti. E ora c'è l'imbarazzo della scelta. E ora c'è proprio l'imbarazzo della scelta. Signori. Con 31 punti. Intanto siamo secondi in campionato. A 17 punti. A un punto dall'Inter. A pari punti col Buenos Aires. Bastarda la squadra con la quale abbiamo perso. Siamo messi bene. Ricordiamo che l'obiettivo è arrivare almeno fra le prime 8. Quindi a metà classifica praticamente. Essendo una neopromossa. L'obiettivo è arrivare fra le prime 8. Ricordiamo che la Lazze è sesta. Una vittoria importante. Allora signori. Con 31 punti. Io Davids lo posso andare a prendere? No. Allora Davids ancora non possiamo andarlo a prendere. Perché siamo a 36. Ci mancano 6 punticini. Ok. Quindi gli altri obiettivi potrebbero essere Turam. Che secondo me è Turam 30. Quindi Turam potremmo prenderlo e se no potremmo chiudere bene bene la difesa. Con Turam e Valery. Secondo me come due difensori centrali potremmo essere messi bene. O se no potremmo andare a prendere o Agawa che lo possiamo prendere che costa 20. Ci rimanerebbero 11 punti disponibili. Oppure potremmo andare a prendere questo Argy. E magari mettere... E che poi se metto Argy come trequartista sempre uno da sacrificare c'è fra Stoikavic e Totti. Perché comunque Davids andrebbe messo davanti la difesa. Non lo so signori. Allora io sono pronto ad ascoltare tutti i vostri suggerimenti. Ma io mi terrei questi 31 punticini. Mi andrei a giocare la prossima partita nel prossimo video. E se dovesse arrivare un risultato importante andare a prendere Davids. Perché secondo me intanto gli uomini importanti da prendere sono Davids e Turam. In modo tale che sistemiamo davanti la difesa e il difensore centrale insieme a Valery. Io penso che questi sono i due prossimi colpi di mercato. Perché secondo me come trequartista Stoikavic ce lo possiamo giocare e metterlo lì. Sulla fascia Jorni o Jorni per ora secondo me sta giocando bene. Quindi io punterei in questo momento primo Davids. Secondo Turam. Detto questo signori io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga. Ciao.